Volevo semplicemente ricordare alcuni libri che ha citato Corrado nella sua clinic che sono Da Brand a Friends di Robin Good un grandissimo libro che io ho letto e che rileggo di tanto in tanto a spezzoni giusto per riportarvi alla mente quello che mi serve un nuovo modo di fare business online condividendo valore e creando relazioni questo qua poi ha citato anche questo l'ho appena letto di Alan Krueger Economia Rock il mercato, la crisi, il lavoro, la disuguaglianza sociale spiegati a chi ama la musica libro stupendo assolutamente dovete leggerlo oppure l'altro libro che Corrado ha consigliato era La mucca viola se non mi sbaglio che io non ho ancora letto ma so che David l'ha letto quindi eventualmente potete chiedere consiglio a lui se siete interessati a quel libro o per capirne meglio in quanto è tutto ci tengo anche a consigliarvi il metodo di Corrado Bertonazzi suonare la batteria una guida completa avete dentro tecnica mani e piedi, ritmi nei vari stili drum fill, udimenti, lettura ritmica, coordinazione, mp3 con esercizi e anche tutta una bella serie di video io lo uso tantissimo anche per preparare le lezioni non so se si vede tutti i segnetti che ho all'interno mi serve appunto per preparare le lezioni settimana per settimana con i ragazzi ciao ragazzi, buona domenica e buon riposo